Lonza in padella con prosciutto e formaggio. Facile, morbida e davvero buonissima. Per prima cosa ungi una padella e insarina le fettine di lonza. Crosola la lonza in padella. Trascorsi 5 minuti gira la lonza e aggiungi mezzo bicchiere di vino. Aggiungi un po' di rosmarino, macina un po' di sale e un po' di pepe. Cuoci per altri 2-3 minuti, quindi posa la provola sopra la carne. Copri con il prosciutto cotto. Aggiungi un altro po' di rosmarino. Continua la cottura finché la provola non si scioglie. Quando la provola si sarà ben sciolta, servi le scalopine di lonza al prosciutto e formaggio. Buon appetito!